La questione Stadio non ha nessuna intenzione di smetter di essere al centro della discussione mediatica. È arrivata infatti la conferma tramite una circolare firmata dal direttore del Ministero dei Beni Culturali dove si dichiara in via ufficiale che spetterà al Governo il compito di dare il parere definitivo sugli interventi esautorando di fatto la soprintendenza. Sarà dunque lo stesso Ministero a valutare la tutela del patrimonio dei beni pubblici in questione che, opportuno ricordare, grazie agli emendamenti sblocca stadi, ad oggi sono gestiti e regolati da uno schema organizzativo differente con la necessità di preservare il valore testimoniale diventata recessiva rispetto a quella di preservare la funzionalità della struttura stessa, la sicurezza, agevolando così l'investimento economico. Prima però di presentare al MIBACT un progetto di intervento e da modernamento, sempre che Commissio e la Fiorentina decidano di farlo, servirà a seguire un determinato iter che vedrà passare il documento in questione prima in comune e poi in conferenza dei servizi, dopodiché entrerà in scena la soprintendenza che, come potere di intervento, potrà solamente, entro 15 giorni, scrivere una relazione in cui si specifica quali sono gli elementi da conservare o riprodurre, a fini, appunto, testimoniali. Quando infine il fascicolo arriverà a Roma, il Ministero avrà 90 giorni, prolungabili fino a 120, per fornire una risposta che, se non dovesse arrivare, vedrebbe innescarsi il meccanismo di caduta dei vincoli di tutela artistica tramite il principio del silenzio e assenso, e se per molti questa procedura potrebbe segnare la fine dello storico scontro fiorentina a soprintendenza, per altri, invece, quest'ultimo si allargherebbe solamente a livello nazionale. Grazie. Grazie.